A proposito di peli, vai dimmi. Ti l'ho scritto Panditz? Panditz, sì. Per forza. Gli piace parlare di peli? No, però è una cosa che scriverebbe Panditz. A proposito di peli, tipico messaggio di Panditz. Ha tre uomini e donne? Potrebbe essere. Ho tutto il braccio con peli lunghi uguali, ma ogni volta cresce un pelo lungo il triplo degli altri. E allora, e nel momento in cui te ne accorgi cosa fai? Lo tieni? Cioè hai detto strabello, ti piace? Discussioni di più. Si sente il nerf su Panditz? Non credo. Cioè non l'ho provata però, non credo. Io non ho assente, non ho notato niente. È appunto. Grazie, Potes. Lo guardo e lo tiro per vedere quanto è più lungo. Che lendo di merda, Marika. No, ma io sto... ...fattendo un po' di sentimento su questa zona. Anche se lo tolgo poi ricresce il lungo uguale. Ma allora toglilo e fai tipo la collezione. Lo metti in una scatoletta. E quando ne avrai abbastanza ti crei un cuscino, tipo. Eh. Ma la vera domanda è, è più lungo o meno del pelo sul mento di Kim? Dovreste fare la gara. Non ho trovato armi. C'è un avoc qua, se tu vuoi. Beh. Vabbè, vadovo pingare l'avoc. Lo vorrei, sì. Cioè... Vabbè, Marika ce la puoi fare. No, vabbè, quella te l'ho prendata di proposito. Ma il avoc dov'è? Ah, ok. È uscito un heirloom universale. Utilizzabile su tutti. Sono sopra qui. Beh, vorrei salire anch'io, però. Eh, lo so. Beh, allora, io vorrei salire. Ma non posso. Dioiii. Beh, potremmo salire dall'altro lato, tipo. Ma? Crackato il bloody? Ma io salgo, vado di L.U. Si è buttata? Sì, eh... Ma chi era, Valk? La loba invece? Lobo. Ah, ok. Uno se ne sta andando. Oddio, aveva il Sentinel, che bello. Qui c'è un caricatore pesante e esteso. Livello 3. Meno uno. Manca la Valk. Scappato? Eh, boh, non l'ho mai vista io. Carico. Qui c'è un ottica. Ah, ho pingato un pesante viola. Secondo me è mezza canterosa. Vado a morire. Torno più versatile in assoluto. Sto creando qualcosa. Un secondo. Lì c'è una capsula assistenza. Sì, Pandiz. Jeremia è molto figo. Pandiz, a te piace il tuo nome? Cioè, ti piace, ti piace il nome Antonio? Dai, sondaggio, vi piace il vostro nome? Per tutti. No. Eh. No, no. Ma vedi, il proprio nome non piace a nessuno. Tipo, penso di non aver mai incontrato una persona a cui piace il suo nome. Bella, Zaulpa. Ni. Eh, a me non... Allora, a me non piace per nulla il mio nome completo. Cioè, Nicola non mi piace. E Nico mi piace molto. Infatti... Anche a me. Ma io quando mi presento alla gente, mi presento come Nico, non mi presento come Nicola. Cioè, io non mi presento mai con nome completo. Tipo l'altro giorno che ho incontrato gli amici di Sunny, io mi son presentato come Nico. Cioè, quando Alissa mi ha stretto la mano e mi ha detto piacere Alissa, io ho detto piacere Nico. Non dico il mio nome completo. Io lo ho per una storia ambigua. Eh. Assurdo. Beh, Edoardo, molto figo. Cioè, i nomi da tartaruga ninja sono sempre fighi, dai. Niente da dire. Ma... Cioè, è tipo, più o meno. Insomma. Cioè, potrebbe essere tipo la quinta tartaruga. Potrebbe essere la quinta tartaruga. Più o meno. Ci sta, Leonardo e Edoardo. Spostiamoci qui. Ciao, Manu. Mi chiamo Carmela, ma mi presento come Carmen. Vabbè, dai, Carmela è bello. Vabbè, ma alla fine a nessuno piace il suo. Sì, è la tartaruga... È la tartaruga spastica, chiusa in... Che cazzo è andata. E boh, fightano qua. Vabbè, non andiamo, bella Leo. Vedi, a Leonardo piacerà il suo. Lui è una tartaruga ninja, veramente. Se l'hai messo anche nel nome. Un piccolo messaggio per le leggende nemiche. Marika, ti piace il tuo nome? Beh, Marika è un bellissimo nome, dai. Sì, a me il mio piace. Eh. Poi c'è una lunga storia dietro il mio nome, che è lungo è un cazzo, perché me ne ha sempre fatto pentire. Volevano chiamarmi Aurora quando ero piccola, ma mio padre non lo sapeva ancora di. Come? Aurora. Il mio padre non lo sapeva ancora di. Perché è bello il nome Aurora? Diecimila volte meglio di Mari. No, meglio Marika, secondo me. Ok, ma è bene. E ho noccato il P.A.T. Ricarico gli scuri, un secondo. Tra la. Neutralizzatori attivati. One shot rampart. Crackata rampart è di nuovo. Crackata anche la Ori. Eh, mancano i due che ho caccato. Easy. Ho preso zero kill su questo fight, ma ho messo 600 danni. Ci posso stare. Ma la ulti dura di meno? Del breve? Non mi pare. Mi è sembrata un botto più veloce. Mi sto curando. Ora qui. Se mettessi la macro sul mouse per il super glide è bannabile. Eh, in teoria sì, però non penso che ti banneranno mai. Eh, ma solo a me sembra che il tuo Avok abbia sempre il turbo. Gallo. Eh, tipo, ho 12.000 kill con l'Avok. Eh, cioè, semplicemente vado in pre-fire, conta. Ah, pubblicità. Allora, vaffanculo. Rispondo dopo. C'è chi no, muoviti. Ma dove dove? Beh, dietro. Ok. Pusciano. Io salgo. No, non è vero. Ma sono qua davanti. Io ho busciato il bloody, eh, però... Sì, lo so, lo so, lo so. E' guanto tanto l'oba. E' l'oba molto one shot. Tutta tua, marica. Io ho il da? Sì, 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 ma se la fa, se la fa. Cioè, l'ultimo è sceso qua. Sto stabilendo con la parte del minuto. Sto stabilendo con il corpo. È arrivato un altro team. Devi restare subito. Ristorato? Ah, per questo ho confermato la logo. Hai fatto benissimo. Riesci ad entrare? Ti butto su di me? Mi confermo. L'L1 potevo evitare, però... Vai, restami. Poi, se volete, prendete il TP. No, no. Dove cazzo va? Prendi il portale. Ok, l'hanno fin l'ho. Il blog è che c'era il resto. Ecco gli altri. Non è avendo. Sei nel loro mirino. Un altro team. Due team, eh? Sì. Un altro team. Insomma. E allora, Gallo, semplicemente sembra che il mio AVOC abbia il turbo perché ho 12.000 kill sull'AVOC. E in realtà prima ha detto, non ne capisci un cazzo, ho 12.000 kill sull'AVOC. Non è vero. Ho detto, ho 12.000 kill sull'AVOC, quindi ho imparato a usarlo. Semplicemente vado in pre-fire. Cioè, se tipo una persona qua sopra la devo fightare, inizio a premere prima di salire e quando salgo già sparo. Inizio sempre a caricare prima. Uno blu, uno viola. Del team di su. Cazzo, inizio a fightano per cazzi loro. Ma noi abbiamo sto l'impeci guardo. Che bello. Sì, Giulie, è bannabile, quindi ovviamente ti sconsiglio di farlo. Cioè, è bannabile, sì, qualsiasi tipo di macro. Poi, realisticamente, non penso che ti sgamerebbero, però non vuol dire che ti invito a farlo. Chiusura tra un minuto. Dite che il balun non riusciamo a farlo? Eh, sì. Sì, minchia. Lo metto. Ma non lo so. Entriamo qua, tipo. Maledetto. Vabbè. Nel senso, hanno sparato tutti a teta, hanno fatto venti danni. Un'altra squadra ci sta attaccando. Concentriamoci. Beh, perfetto però il d'arte. Ma era scappata lì, Marika. Vabbè che serve a te. Quindi se non vuoi non parto. Vado e vado anche a prendermi la cazzo destra. Nemico individuato. Scendo un attimo che riesco ad avere pick migliore. Abbiamo altri team di qua. Uno va da. Forse posso sparare al terzo io. Gli ho fatto una cinquantina. Nokatuno. E non hanno più, non hanno più la bolla. E lo resteranno, mi sa che è andato in bolla. Sì, l'hanno già restato. Però hanno un altro team, l'hanno già restato ma hanno un altro team. Quasi crack il gibbo invece. Rinoccato quello ma avevano anche rest gold. Eh, quasi crack lui. Uno di vita, uno di vita. Pusso. Mi sa che hanno restato di nuovo. E guarda, tutto il gibbo e anche la bengalore, vaffanculo. Ok. Vai in fondo, vai in fondo, vai in fondo. Vai di là, andate di là, andate di là, andate di là. Buono. Porco cazzo. 1.400 danni e una kill. Padonna. Sì, Giulia, è praticamente la stessa cosa. Cioè... Quelle sono per pad, le macro sono per mouse, ma il concetto è lo stesso, quindi sì. È blu. Oh raga, what? Ah, ok. Sono andato in fioccia? È flash? Eh, lo so, lo cracataglio. No, 30 flash ancora. Eh, è una cinquantina. Che rompicazzo, però. Io li pusherai qua. Eh, aspettami. Stavo pure responando. Ma, da davanti questo? Non so, da troppe direzioni, più che altro. Siamo un po' in mezzo. Eh, ho due notte, poi. Eh, ma c'è l'altro team che ti spara di G7. Io non ci sono. Eh, ho visto. Vorrei contramarmi questi, anche se non mi vuoi. Ma forse Marika ha l'ultimo, Seba. No, me lo sta arrestando con me. E tu non mi riesci a arrestarlo. Eh, no, no, devi venire tu a arrestare me. Io sono completamente libero. Eh, ci provo. Non voglio, non voglio, non voglio, non voglio arrestarlo. Eh, chiaro. Ma te li ha arrestati tutti? Dove, 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 dove? Alla roccia. Eh, Marika, Marika, Marika. Va bene, non ti fermare per pingare. Eh, alla roccia dove era Marika ne aveva noccati due. Va bene, ma li ha già arrestati entrambi, sicuro. E qua. Mi ha arrestato uno. Ah, e niente, nessuno di tu è arrestato, in verità. Cioè, uno solo, sì, però l'hai rinoccato, ok. Allora mi ha arrestato il doggy, credo. Poi, io ho una casa nera. Eh, mamma, dove vi sentiamo? Mi servirebbe una siringa, vabbè. Io posso fare un TP dentro una casa, tipo. Vedi che a sinistra vi un team. Sì, lo so, li sento. Vorrei capire che cazzo vogliono fare. Sono ancora dietro l'albero, che cazzo fanno? Che cazzo fanno? Sono ancora lì. Hanno un altro team? Ma trollano? Sono seri? Che restano lì dietro l'albero ancora. Detto, tetto, casa. È free? Il piano sotto, però piccano dalle scale. No, sono anche scesi. Eh, no, io li ho visti solo dalle scale. Però hanno pusciato del tutto, sì. Sì, sì. No, stai là, stela. Beh, all'inizio erano solo dalle scale. Si vede che sono scesi anche dagli altri. Ciao, Sanni! Sono con Filippo. No! Filippo, io ho detto che eri il più simpatico di quelli che ho visto. Sanni conferma. Dell'altro neanche mi ricordavo il nome. Ah, top 2. Vabbè. Sciglione. Eh, sì, pandiz. È lui. Peccato, senza restaurato avresti vinto, però. Eh, ma avevano restaurato. Beh, come no, minchia. Saresti stato uno di uno alla fine. Madonna. Vabbè, Edo. Ah, ok, ok. Eh, sì, è vero. Vabbè. Platino 1 di Marika ripreso. Easy. Ma! Beh, Marika, io screenerei. Mi hai carriato. La partita di Marika. 1.600 danni, 4 kill. Ciao, Giacomo. Master meritato. Grazie, pandiz, lo volevo dire io. Che c'è Edo che flamma e poi ci giochi insieme e facciamo io 2.500 danni, pandiz 2.800, Edo 80 cadendo nel vuoto. E tu dici, vabbè, è caduto nel vuoto e poi non ha giocato. No, no, ha giocato tutta la partita e è caduto nel vuoto in endgame dopo che noi abbiamo fatto tipo 10 fight. Cioè, lui per 10 fight c'è stato. Si è perso l'ultimo fight cadendo nel vuoto e è caduto nel vuoto in top 3. Ancora non l'hai capito che gioco troll se non è ranked? Io gioco troll anche in ranked, però non faccio 80 danni lo stesso. Pensa te. È da ieri sera che gioco troll anche in ranked, giocando solamente Sentinel e pushando tutti col Sentinel in no scoop. Però non faccio 80 danni lo stesso. Assurdo. Ma? Quella Rampart? Vabbè, Kim, lo puoi ancora diventare, tranquillo. Hai tempo, hai detto che hai 16 anni. Devi ancora sbocciare, sei un fiore in attesa di essere impollinato. E' ancora brutta. E' ora mille cose. Eh, grazie Panditz perché in effetti mi sono sentito offeso visto che io non sto giocando, sto solamente aspettando il gameplay di questo YouTube. Che comunque mi sembra un grande giocatore. Secondo me è overrated. No, YouTube tanta roba. È il miglior giocatore di Sentinel che io abbia mai visto. Ma lo so, Panditz, come gioca Edo in ranked. Mi hai anche mandato il video di lui che in ranked moriva col Sentinel. Nel senso. Cioè, sì, lo ho anche... lo so. Cavolo, Panditz, non ti ricordi quell'ultima volta che abbiamo sparlato di Edo in privato? Che tipo poi è entrato anche Davidotti nel parchi e abbiamo iniziato a sparlare perché tu e lui avevate giocato le ranked con Edo. Mi hai delle cellule in più... Eeeh... come ti chiami? Grazie. Aurora. Ma 9989 che c'è? One shot la Maggie? Cioè ha tipo due di vita proprio. Però anche io ho due di vita. Immaginavo. Maggie aveva circa la vita mia, comunque. Allora. Oh. Aspetta. Sono qua sopra. Non puoi farlo. Eh, ciao Marika, ti ho abbandonata, scusami. No, per te. Faccio l'assistituto, perdono, non ti preoccupi per te. Grazie. Grazie, Kaneda, per la resab. Mi sto curando. Il prossimo campione lo ucciderò con karma. Ho scelto una strada e soggiato le mi porterà. Vuoi i med, chissà? Mi sto curando. Mi sto curando. Vabbè, scusa, non me lo voglio dare. Beh, io tornerei là dentro. Non ci sei mai stato. Sì, ci sono stato per un millisecondo. Ho fatto 140 Mad Maggie e sono uscito. Ero entrato qua. C'è una porta chiusa. Ecco, su questa porta ero. Sono tutti qua al centro. Cioè, in verità no. Sono andati via, forse. Da dove cazzo sta? Beh. Ah, ma dietro la cassa! Ecco dove era camperato il brother. Guarda che sono spettate. Uno di vita alla life? Beh sì, sto provando ad allargarmi qua. Ma qua... Ah, e niente. Uno è ancora più a destra. Sì, l'ho visto. Armatura bianca. Due bianchi, uno meno. Fa fastidolo. C'è la lifeline ancora. Lifeline è passato. Preso una. È arrivato un altro team plan. Ho preso il cazzo. Un HP. Mi ha svuoppato uno di via. È andato via questo. Puoi recuperarlo. Ho il banner. Presto ci rivedremo. Ma potremmo andare subito al respawn qua. L'altro team da dove era? Ma l'ulti era la tua, Marika? No. No. Beh, ce n'era una anche non sua però. Allora sì, c'è un'altra qui. C'è, la vedevo davanti a me rossa la ulti di conduit. Io ho due celle. No, una celle e zero batterio. Sto creando qualcosa, ma non abbasso la guardia. Sto creando qualcosa, ma non abbasso la guardia. Ciao, ma non abbasso la guardia. Ciao, vedo. Perché non posso morire a parte? Round 2. Inizio controlla rovescia anello. Eh, potevi fare un salto coi punti. Ci stavo andando io. Sì, stavo andando. Torniamo lì, è un vero di torno. Beh, beh, vai. Non mi interessa. Io sto qui. Dai, che sicuramente c'è gente, dai. Qua non credo. Da me? Minchia, parte la safe tra un minuto. Sono tutti qua a fightare. Sì, dall'altro lato, però più di là. È tutto fuori safe, qua. Che cazzo ci deve essere? Vabbè, tanto mi avrà lootato lui. Dio caro. Eh, sì. Cioè, penso di sì. Ma per ora ce l'ho ancora. Vabbè, io esco da questo lato, allora. Ho zero scuri. Anche io. Ho due celle. Dov'è questo? Aspetta che forse questi qua a sinistra pushano. One shot lifeline. One shot lifeline è presa Bangalore. Buon. Pushalo. Masticato. Eh, non venire qua. GG. Lo guardo sotto il pat. Easy. Cioè, sei vasticato che mi fa prendere l'hit di Stella Arc. Quanto hai preso? 10? 30 più lo stordimento nel mentre che stavo sparando al pat. E gli ho fatto 140... 150. Vabbè, ho preso il top. Eh, però l'avrei noccato. Senza quel 30 di danno più lo stordimento, il pat l'avrei noccato, perché gli ho fatto 150 blu. Quindi, almeno lui l'avrei noccato. Poi non so. Vabbè, meno 5. Peccato cazzo, erano anche in due questi. Dio buono. Ma, a che livello sono i materiali... Non i materiali, le prime monete gratis del pass. Che non mi carica. 29 maggio. Me lo segno nel calendario. Non è vero. È il 29 maggio. È il compleanno di Clarence. È il compleanno di Clarence come il cartone. Ma lo sai che si chiama Clarence? Perché è una referenza al cartone. L'ho detto tipo 16 volte. Eh, cavolo, io l'ho scoperto ora. Che poi non so neanche a che cartone sia la reference. Clarence, cartone. Ora lo scopro. Non so che cazzo di cartone sia. Ah! Ok, vabbè, ma minchia l'ho visto mezza volta. Cavolo, ma tu sei tipo simile a Clarence, Clarence? Sei molto bello. Sì, l'ho visto qualche volta. Molto poco. Ah, ma perché è un cartone di Cartoon Network. È da ricchi. Sei uno alto locato, Clarence, per conoscere i cartoni di Cartoon Network. Eh no, non lo so, Pandiz. Ti pare io ho guardato i cartoni di K2 e Boeing e basta. La vita è come le stagioni. Ma io porto sempre il sole dell'estate. Venite con me se volete vincere. Io l'ho sempre guardato su Boeing. Sono mulatto come Marika! L'umanità è sopravvalutata. Posso avere un altro amico, allora? Beh! Ecco il campione! Beh, Pandiz, easy! Doppia forza. Eh, se riunisci forse fanno... No! Non è una persona normale. No! Marika! Io l'ho posto di lui. Potrebbero averti visto. Ho capito, tu lo puoi dire, ma gli altri non sanno che sei africana. Ma io sono africana. Controlliamo di là. Pensami di africana per ciò che... Ma sì. Ieri Blur ha fatto lo stream con il nonno di 93 anni. che stava raccontando i suoi aneddoti da giovane, diciamo. Ah, una certa ha sparato una eneword. La moro. Qualcuno ha rubato un Wok, ecco. Cosa? Io ho la Spitfire. Per Pandiz, ti dedico questa partita. Abbiamo anche i punti qua. Però non diventiamo blu. Perché qualcuno non ha preso la cassa support lì. Peccato. Non tornerò indietro. Ah, peccato. Eh, mi sa che qua Nico scala la tier list dei main conduit. Super amarica. Secondo posto dietro d'arta. Io le casse support le apro sempre. Eh, a me sì. Porco cazzo. Le uno. One sotto il bloody ha dieci di vita. Anche meno, anche meno. Ha meno di dieci di vita il bloody. Quattro collocche. E il bloody aveva tipo cinque. Dietro il muletto. Salgo, non salgono entrambi. No, no. Salgo anch'io ancora. Poi l'aveva su One. Preso uno. Ho abbattuto un nemico. No! Basta! Mi sono immedesimato nel personaggio. Mean Vraid. Fam. Dove per ti scappare? Terrible. Vraid main. Classico. Notte pandizza. Da quante execution spammate si considera tossicità? Cioè, quante ne devi spammare perché sia tossico? Tre. Cioè, tre è già tossico o no? Sì. Va bene. Allora, io gliel'ho fatta due... Cioè, gliel'ho spammata due volte. E alla terza gliel'ho fatta veramente. No, allora non è tossico. God. Ciao, Ceci. No, mi dispiace, Ceci. Potresti dirglielo cosa? Grazie, Jotaro. Ne basta una, poi lancio il pad contro il muro. No, dai, una no. Perché una... Una puoi pensare che l'abbia interrotta per sbaglio. Che effettivamente succede. Cioè, a me è successo anche molte volte di veramente spammarla tipo due volte. Però entrambe le volte interrotta per sbaglio dal gioco. Cioè, per sbaglio, tipo per... Perché si incastra il personaggio. No, è vero, succede. Che vuoi fare l'esecution ma il gioco te la interrompe. Cascate è no loot. Sì. Tutto no loot. Non serve? Sì. Ora a cascata e c'è gente. Quindi faccio un balun. Sì, vabbè, ma comunque... Arrivo da voi lo stesso. Ma no, arrivo da voi, andiamo insieme. Grazie. Purtroppo non ho i colpi da metterci dentro. Grazie. Vabbè, ok. Riempio il caricatore a malapena, proprio. Aspetta. Ok, me ne avanzano sette. Uno di vita, la Ori. Ah, 37. Sì, ma faccio un TP a Marika. E Horizon aveva sette di vita. Uno, la Ori. Quasi cracka l'altro. Beh, hai fatto il caustic, aspetta. Quindi manca solo la Ori One? Sì, l'ho... No, l'ho crackata. Ah, e Valkyrie crackata? Ma perché ti ha restato il primo, scusa? Sì, avevo restato. Arriva un altro team. Arriva un altro team. Valkyrie era one shot, l'ho fatto 72 flash. Altro team, questo. Crackato il rev. Preso il caustic full. Beh, vengono il caustic full. Uno di vita è raro. La Conduita era fuori. La Conduita è qua fuori. Davanti a me. È salita. È la porta, è la porta mia. Entro. Non so se sia morta la Valkyrie al fine. No, secondo me no. Ma sai cosa? Mi sa che non mi è morto nemmeno il caustic. No, non ti emmo... Ah, forse sì, aspetta. Io... Io devo trovare leggera. Ce l'ha nessuno. Va bene, ne ho 106 adesso, in verità. Così. Comunque poche. Ce l'ha nessuno. Casse non ne vedo. Aspetta, forse è questo. Qui c'è una battaglia a studiare. Manello è vicino. 45 secondi. Mi c***o il fornimento è extra da questa parte. Caricatori analogi? Mmm. Ha responato qui la... Il caustic con gli altri. E ci hanno messo un ballon dietro. Vabbè, vado da questi. Non mi sfuggirete. Sono già andati via. L'anello si sta stringendo. Eh no, anche questo. Sì. Stabilizzatore canna. Livello... Bo, ne ho hitato uno blu. Stessa in arrivo. Utile quando servono accessori o un po' di energie. Vabbè. No mi sfuggire. Va bene. Ehm... GG Alex. C'era Cecilia che faceva tutti i discorsi seri e ha chiesto voi credete la vita dopo la morte. Alex, dipende se i miei teammate mi rispondono. Ehm... Ah, davanti a me proprio. Devastato. Cioè ha tipo uno di vita anche lui. Sto lasciando tutti con uno di vita. Eh, edo, c'è il Krabber. Eh... E sopra hanno pure... The Roads. Questi li vogliamo busciare? Ho rinocato lui e ha craccato la loba lì. Che è scappata con bracciale. Ho il sangio individuato. E l'hanno uccisa. Sono viola. Però c'è il guardiano, il studio, buono. Replicatore energetico è sceso. Livello 2. Ti tengo no do... Credo mi stiano contando. Inizio contro la rovescia. Ehi, nemico da quella parte. Replicatore in discesa. Replicatore in discesa. E questo? Lo metto qua a sinistra. Eh, ce li ho davanti. Stanno fightando. Vabbè, qua abbiamo... Che facciamo? Glielo rompiamo. Laseriamo. Laseriamo, glielo rompiamo. Il primo l'ho distrutto? Raga, laseriamo figa. Il primo ho fatto 170 viola. Non ho mai sparato. Ah, 170 viola il primo. Vado sul secondo. Sto aspettando il terzo. Ha craccato anche lui. Ha distrutto quello davanti a te. Ti busciò una sinistra. L'ho evitato poco. No, è andato via. Ha craccato anche lui. Mi spara zizzo. Che peccato, minchia. Per il primo sul balun. Ma adesso deve... Maghi il noto, no? No, no, no. Cioè, ho confermato. Eh, lo so. E sti che azi. Possiamo entrare da qua? No, in top 9 non è bello. Dabbè, ma stiamo qua. Ma potete venire anche a piedi. Cioè, qua davanti è safe. Poi il TP lo tengo... Sono proprio su di me. Stanno risponando. Ah. Eh, non mi posso affacciare. Vabbè, se scendono li trito, però. Non vedo l'ora che lo facciano. Più che altro... Non li trito più, mi sa. No, quello dietro. Eh, non li trito più. E il TP dove cazzo lo faccio? Cioè, non saprei dove farlo, sinceramente. Preso. Oh, non mi posso... Oh, non mi posso... Oh, non mi posso... Preso. God. Non so dove sia caduto. Ok, è morto. Armature blu quelli che holdano. Due blu sono. Sì, ma spingiamo su sti coglioni, c'è. Craccato anche lui. Eh, un bel po'. Preso. Preso. Abbattuto anche l'ultimo. Un altro passo verso la vittoria. Devo ricaricare i miei squinti. Qui ci sono munizioni leggere. 45 secondi alla chiudura dell'anello. Muoversi. Eeeh. La nuova mod è libera, ma dovremmo pushare in casa. La nuova mod è carina, però, non come modalità event. Siamo vicini all'anello. Restano 30 secondi. E l'altro qua? Vabbè, che mi frega, pushiamo in casa, allora. Fuori, a destra, li vedo. Scudo nemico di scudo. Scudo nemico. Ricarico. 10 secondi all'anello. Almeno è vicino. Ricarico. È camperato qui. Qua da me è giocabile pure. La pressione migliora sempre di più. Da me è free. È free, 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 free. Da me è molto buono anche. Quanti può salire? Beh, anche. Ci sta. Anche tu sei fan di Elena Spani. Non ho idea di chi sia. Fatto caustic full red. Eh, mi sparano dall'altra parte. Ciao, Claudio. Mannaccia. E io non ci sono, mi devo pullare, ma non ho lasciato uno di vita agli altri. Mi sto curando. Ma che uno di vita, dai, push. E ricarico gli studi. Eh beh, avevo uno di vita prima che mi facessi la battere. Sotto di me pure. Non hanno ancora il stock. Sì, sto arrivando. Nemico vicino. Tutto molto bello. Quella del dottor Bavaro. Elena Spano. Non Spani, scusa. O no? Sotto di che dono? Eh, erano sotto al ponte. Li sentivo, sentivo l'acqua muoversi. Cioè, non so dove è preciso. Erano qua. Erano qua. Secondo me in quel tunnel lì. No, no, era lì, ti giuro. Sono sicuro. Eccolo. Zio Khan. Visto? No, no. Erano sotto di me, sicuro, minchia. Mentre arrivavo da voi, facevano il bagnetto nell'acquetta. Forse è entrato qua dentro. Mi stanno sparando. Potrebbero sorvegliare. Mi stanno colpendo. Ho distrutto lo scuro a una nullità. Mi sto curando. Ah, ultimo team. Boia. Eh sì, è vero, Rivo. Però non dire che ti ho mandato la foto. Che palle. L'anello si sta muovendo. Armatura blu, il pat. Tranquilla, Marika. Ci penso io a testa. Dimmi quando. Va bene, ti vedo, ti vedo, ti vedo. Tieni, Marika. E io non riesco a salire se vada qua. Ora sì, ora sì. Sì, arrivo, 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 arrivo. Qua è la conduite, resterà, è uno di vita. Ti fa la basse. Marika riesce a scildare. La conduite, push-ups, lo scudo. Presa. Brava, Marika. Mamma mia. È a forma di rombo. Beh, il quadrato è un rombo, nel senso. Il quadrato è un rombo con tutti i lati uguali. Siate i campioni Apex. È la tiangra. È una valanga di fonte. Io non so quanti. Minchia. Beh, boia. Questa partita è un più 400, tipo. Basta, arrivo, hai rotto il cazzo. Non è vero che sei rasato. Hai mandato la stessa foto dell'ultima volta. E sì, Axel, non è che lo consiglio, ma non puoi giocare col crossplay disattivato perché non ti trova partite. E perché di base è attivato a tutti, quindi nessuno lo disattiva. E tanto il crossplay è solamente con altre console, quindi solamente con Xbox. Avevo detto questo è un più 400, ho fatto più 396. Così poco? Ah, ma perché io ho l'amante delle sfide. E sei oro, soprattutto. E appunto. C'hai tutti i platini per te, sono l'amante delle sfide. Beh, è 176. Porco cazzo. Allora, Edo, smettila di rompere il cazzo. Minchia Maricas è l'unica che dovrebbe fare i punti e si è quella che ne ha fatti di meno. Aveva 12 punti, 2 kill, 10 assist, più tutte le partecipazioni. Per un totale... Per un totale, è. Per un totale di circa 18 punti, una cosa simile. Cioè, guarda che... Edo, dopo i 6 punti, valgono la metà. Dopo i 6 punti valgono la metà. Quindi lei, che già aveva 2 kill e 10 assist, e sono già 12 punti, lei basta che arrivi a 6 punti. Poi le partecipazioni, sti cazzi già aumentano. Però una volta... Cioè, il 6 punti è praticamente il soft cap. Cioè, dopo i 6 punti non valgono più una sega, valgono la metà. Quindi... Se hai 10 punti o 6-20, a fine partita, i punti che fai sono praticamente gli stessi. Cambia veramente poco. L'importante è farne 6 più, praticamente. O i 10 o 20. Soprattutto se ti prendi le partecipazioni. Nico, sarebbe da portare un interrogatorio a chi si smenna? Che cazzo gli devi chiedere? Non c'è molto da... Nel senso, ci parlo regolarmente con gente che si smenna. Non penso che avrebbero niente di interessante da dire. Eh, vabbè. Vabbè, parlando del personale, ok. Ma quello... Un po' con chiunque, non solo con loro. Non l'accade per caso. Basta sapere se... In quale chat? Ah, nel gruppo. E intanto vedo Marika è di rank più alto di te. Ehi, bla bla bla, muti. Marika, quanti punti ha il diamante? È l'operazione che si sa. Beh, un'altra partita così. Sono la Jump Master. Sarò io a fare su. Ma non lo so forse... Venite a prendere. Vi sto aspettando. Base Nord, così possiamo pushare check point o bestia. Che merda! Bellissimo land. No, è diretta check point, che dà. Un team c'è. Beh, c'era un team manca base Nord. Due. 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 Vado alle casse in fondo. Vediamo la jump. Non potere andare. Che scherzo. A me è andata bene ho trovato il flatlay. Sono soddisfatto del mio loot. Merda, 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 merda. Mi hanno pusciato tutti, zio bestia! E' un 30-30 e un devoto. Eeeh. Provo a prenderne uno, ma se mi entrano tutti e tre, non credo. Cavolo, io volevo fare un imbush, però. Marika mi ha fatto sgamare. Uno è morto, eh. Eh, mi sa anch'io. E' uno. Non si son buttati, però. Sì, la vedo. E' davanti a me. Vai, cracka. Qua a sinistra. Che palle. Vabbè, vado a prenderlo. Ma ci crede davvero? Eeeh. 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 No, non me ne frega un cazzo che te ne stai andando, devo l'usare. No, arriva. Eeeh. Eeeh. Era per Edo che dice, Marika è carinissima e poi, Marika sei bellissima. Eeeh. Eeeh. Grande Edo. Edo ruffino di marido. Imbarazzante Edo, imbarazzante. Sei l'imbarazzo. Innaggia, addio. Vabbè, non ho voglia di luciare tutto. Qui c'è uno stabilizzatore canna. Livello 1. Riduce il rinculo. Qui c'è un'ottica. Medioraggio. Aaaaaa. No, niente. Aveva scritto prima, Marika è carinissima, non possono stare insieme. Vedi che c'era qualcosa che non andava. Mi servono munizioni pesanti. No, ops, ho sbagliato. E però poi ha scritto, Marika sei bellissima, per scusarsi. Sì, ma no, non è vero, Eribo. Il tuo vero erede è Ze che lo sappiamo tutti, cioè è proprio palese. Ma ti serva? Sarva? No, no. Ah. Beh Edo, ci sta che Marika non sia carinissima caratterialmente con te, cioè non penso che tu abbia fatto niente per meritartelo, anzi a giudicare da come ti comporti tu con lei è assai giustificato il suo comportamento di riflesso nei tuoi confronti. Guarda ci rimetto io adesso. Marika con me è molto carina, ogni tanto. Cioè, raramente. Ogni tanto sono stronza. Ma due film che l'hanno. Di ansia te? Sì. C'è a Pred season 3, attenzione. Hanno il 30-30 dorato. Così scappi, mamma mia. Eh sì, era Pred. Cioè, più che altro hanno il 30-30. Non posso piccare. Inter Raiden. Vabbè vola. Ma che posti? Minta colpito da qua da alterneto. Eh, è tipico Pred stagione 3. Sì, ce l'abbiamo fatto! Vabbè andiamo da sticolzioni con il Trident. Vabbè andiamo da sticolzioni con il Trident. Ok, le regalo i fiori. Ho corretto io la frase tranquillo. E mi fa uccidere da Pandis e da Vidotti. Eh eh. Magari non voleva ricevere dei fiori da te. Non mi piace affatto. Andiamo in una casa. Dovremmo coprire lei però. No. Ce la fa. Grazie Sammy per il ride. Ciao. Ciao. Ciao Sammy. Si, penso di sì. Si decisamente. Odio questa casa. Ah, ehm. Si. Non ho mai colpito io. Però Marika si. Bravi. Vedi Marika? Grazie. Niente paura. Diamonde meritato. Sei riuscito a farli venti danni? No, no, no. Ah, niente. Eh? No. Ah, forse sì venti danni forse sì all'Ori. Dai, fa tutto io. No, forse venti all'Ori. Non lo so. Forse è l'unica che ho colpito ma non ne sono sicuro. E' tutto bene. Niente paura. E' per lo medico. Eh, ma l'avoc oggi... Devo prendere il Sentinel. C'è gente vicina. Edo e... Samantha non è interessata a te. Tranquillo. Ma Marika te la fai un'altra partita dopo questa così fai il diamante? Cioè, a meno che tu non lo faccia in questa, dai. Perché sarebbe brutto staccare a una partita dal diamante. Ma chi ha detto che non lo fa? Boh. Beh, potrebbe farlo anche in questa. Ma venerdì si va a scuola? No. C'è ponte da mercoledì... Cioè... Da giovedì. Giovedì è il primo giorno di vacanza. Giovedì non si va, mercoledì si va. E fino a martedì. Martedì compreso. Fino a martedì grasso. Che bello. Finalmente si resta un po' a casa. Da scuola a sto fauro. Concordo. Non so più. Finalmente... Finalmente la mia ragazza non va a scuola in sta casa. Beh, questa era bella però. Potrebbe essere una battuta ma non lo è. Non lo è, non lo è. Non lo è. Questa è la cosa grave. Non lo è. Ahahahahahah. Vabbè. Andiamo ad andare sopra. Sono sotto attacco. Attenta, Marika. Coria. Rompicolioni. Vabbè Non ci vado più Non lo so Vabbè Marika Ti facevo un TP Lo stavo per fare In modo laziale Quando cazzo diventate blu? 69 Casuale Perchè sempre te? Non lo so Perchè sono bella L'ho detto Kim Qua sopra Qua dentro sono blu Sono più diversi Cavolo Che hanno? Sono qua alla porta in due Non è fattibile No no Ci prendiamo la qua con la casa lì Volendo Marika Bastardo di merda Il caos Ma sono qui o? No non sono qui Però c'è la porta bloccata Al caos Ora che scomparrà la trappola possiamo entrare Siamo già nel prossimo Ci siamo a trappola Vabbè più boh Bastardo Ricarico gli scudi Un secondo Ricarico gli scudi Mi sto curando Mi curo Poi 130 blu Al caustic Sì ma non puscerò mai Con l'altro di No vabbè ovvio Quante ce le avete? Ne ho quattro Sei Andiamo qui Ah qua ce ne sono altre Ce ne sono altre lì? Vado a prenderle Sì sono Sono almeno due Questi sono tutti blue comunque Beh mo li fate diventare viola Ma va Ok però Palla No ed Se no mandiamo noi tutte le tue clip Vabbè Siamo già desalto Che pooo Vicini Sotto di noi No no Entra dentro Finestra? La finestra forse Sì anche io Ma mi sa che si sono messi alla finestra Sì vogliono Occhio marica 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 Si va si va si va Che lo fai su mother fucker Confermola conferma Prima che esca Prima che esca Beh io posso uscire da fuori Vado? Cioè mi butto su di loro o no? Io mi butto io lo faccio Che palle Che palle Quelli davanti Quelli davanti però Madonna quella conduit Quando la uccidiamo Guarda Oh io rientrerei Ma quelli là sono splittatissimi Comunque il caustic è sul tetto E la conduit è dentro Ma sono lo stesso team Perché figa Figa io puscio la conduit dentro Dio caro Il caustic sta sul tetto Puscio il caustic Ah pusci il caustic Ma io volevo pusciare la conduit invece E la conduit non c'è più Eh la conduit non c'è più Che palle Ha pusciato l'altro team Di casa l'ho Ma? La sera di casa l'ho Vieni verso di me Poi supporti la conduit Gioppati conduit Hai il medikit Ok Recupera i banner TP al res Res tattico Madonna E' perfetto Eh si il cazzo Adesso che pusciano su Adesso che pusciano su Pili il banner Ma dove sta il banner Qua sotto? Vabbè ma allora Dillo che lo prendite Ho il banner Presto ci rivedremo Ma vado io al res No Marika Marika Fa che cazzo fai Marika Marika torna La call della tattica Ti prego Sì ce la fai Minchia Ti butti diretto Sul TP Eh scampi ad usarmi? Sì Curs Che palle Tutti qui sopra Abbiamo un full team sopra Quante pesanti avete? Marika Cazzo le cose Da bene Chiedevo Grazie Qua c'è la vostra fura Eh lo so Ah io Non so se ho il TP per tempo Non c'è un accelerante Vero? Eh l'ho appena fatto io Eh zioca Eh serviva più o meno Beh a me servirebbe Per fare il TP Là sotto Perché qua sotto È free Mi sembra Sotto sì Sotto di loro Potremmo giocare Io potrei andare Però abbiamo quelli sopra Che c'è Un team sopra di noi Un team alla casa E un team qua sopra Sotto è libero Anch'io potrei andare Vado? Eh vai e dici Com'è la sito Mi sembra Decente Sì sono qua sopra Sì si può stare Si può stare Si può stare Io non accendo No nessun più No 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 infatti Tanto devono arrivare Gli altri E di là è tutto open Cioè i team delle case Muoiono spero Eh volendo Per non rischiare noi Il push degli altri Possiamo andare Con fondo Sono qui davanti Sì appunto Occhio schiede agli altri Quelli che devono arrivare Non so dove si entra Qui davanti a me Ti busciano sopra Ti busciano sopra Che palle Ho buttato la ulti Qualcuno potrebbe scendere No hanno finito Ho buttato la ulti Che palle Sono buttati Quelli sopra Sono buttati dal gibbo Sono scesi a sinistra È a sinistra Però non li vedo La non ho caldo E' salito qua Presi due Presi due Presi due Preso gibbo e mirage Manca l'ultimo Qui dietro l'ultimo Io ci andrei Ci vado Oh cazzo Ma da sopra hanno angolo Occhio 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 Sì lo so Lo so Lo prendi da Non lo vedo Non lo vedo Occhio L'ulta a caso L'ulta a caso L'ulta a caso Che rompicoglioni Quello Dobbiamo andare da lui Ma questo era Accucciato di fianco a me Che figlio di Troy Ah pochissimo 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 Me lo soppoglio Perché non l'aiuto Preso Ci da No Che sfiga Era uno solo Minchia Peccato Cazzo Che peccato Che io mi sono Nocato a vicenda Con lavori Ciao Sanni Ancora Sono con Filippo L'hai già scritto prima Ciao Filippo E Sei il più Simpatico Ah Era uscito Dalla live Mannaggia Peccato Vabbè tanto Penso che con la vittoria Non l'avrebbe fatto uguale No Beh oddio Io ho fatto il platino 2 Sì Io ancora Sì mi sa di sì Mancano 40 punti Eh Vittoria più 3 punti L'avresti fatto Che palle Dai 40 punti Al diamante di Marika Eh il cazzo Edo Il cazzo C'è la lista C'è la lista Che c'è dopo di me Sanni direi No non è vero Non è Sanni Perché Sanni È Gishado Non lo so Non so se Gishado Voglio aiutare Non lo so Sì dai Penso di sì Eh ma è pazza Kim È pazza È pazza Deve fare gli ultimi 40 punti Com'è Slime Rancher? È molto molto bello Beh vedo Ci hai giocato per 4 ore In totale L'ultima volta Due mesi fa Deve essere veramente assurdo Io giocavo da pc Primo L'ho comprato Ci ho giocato Solo per coerenza Anche perché L'apc c'è pure il 2 Ancora il 2 2000 lavori su Apex Marika Vabbè Sì Smetterla di stalkerarmi No È divertente Hai tutti i giochi Con meno di un'ora Mi lasciavo l'app La maggior parte Possono anche essere giochi Che mia sorella ha provato Perché si annoiava E se li ha pensato Quanti anni ha tua sorella 35 35 Ma è già in Cioè Ha già iniziato a decomporsi o No Ok Ok Sembra più piccola di me Eh? Sembra più piccola di me Vabbè Buon game raga Grazie Vabbè Ci buttiamo su qualcuno Ma quittatela Che tardi Va bene Ah no Mi carica Mi carica Mi carica Arrivo Arrivo Conoscete il mio aspetto Venite a cercarvi Sono Sono È il posto No Non volevo farlo Kim chiede di salutare la sorella tua Marica Non credo che lo farò Ci siamo Potrebbero sorvegliarti Neanche io Panditz Penso di essere stata individuata Potresti togliergli È vero Potrei Però se lo fai Non è solito niente Io non voglio sapere Tua sorella vive a mezz'ora D'arrivo E non si sono mai incontrati Spero di una cazzo Perché dovrebbero Boh Vabbè Vivono così vicini Io un appuntamento Lo organizzerei Può venire anche il mio condannato Vero Minaccio Sì Età 35 Ma minchia Aspetta Rivo ha appena detto Che gli piace Ha appena detto Dice sempre Che gli piacciono Più cresciute Le matura Eh Rivo È il momento di dimostrarlo Più matura di così Cioè più di 35 Direi di no Dai Rivo dice Che una ragazza come lei Si merita due fidanzati Marica Appondimenti extra da questa parte Che schifo Ehm Ciao Azrael Com'è questo evento Ho aperto 12 pacchetti Ho trovato Un oggetto leggendario Al primo E poi 11 epici di fila Molto bello Qui c'è un R301 No Tedo Due leggendari Non è vero Quella dell'Eva 8 Non l'ho aperta Me l'hanno data E basta nell'account Non l'ho aperto Il pacchetto io Cerco Prowler Cerco Prowler Non l'ho trovata Quella dell'Eva 8 Ma da noi? A destra Andiamo laggiù A creatura Cerco Prowler Ho detto che cerco Prowler Un potenzione Qui c'è un kit medico Non è un Prowler Qui c'è un calcio per cecchino Livello 1 Cerco Prowler Io cerco caricatore Energy Viola Pesante No il pesante Viola Cerco Prowler Ma davvero? Non ce n'è uno? Eh no L'avrei ovviamente pingato Ciao BALI Basta Hai rotto il cazzo Basta Basta Tre serie di fila Che cosa vuoi da me? Che cosa ti ho fatto? Penso che il cuore finale Sia metà e metà Eh sì certo C'è Marika Cuore Ciao Nico Ciao Seba Cuore Non mi sfuggirete No no E vabbè Insomma Cuore per tutti Tranne per Nico E niente Come sempre Come tutti Non è l'unica Non è l'unica Mandare i cuori a tutti E non a Nico Incredibile Cioè non mi ricordo chi altro Però c'è qualcun altro Che lo fa in chat Te l'ho detto Chiaramente hai metà Eh ma Me l'ha messo solo vicino al tuo nome Non mi sfuggirete Piccione libero Cerco Prowler Ci sta Panditz Ma ti ha scritto Ciao dolcetto Cioè cosa vuoi di più carino? Svegliati Ma l'hanno messo nel craft no? No Meme perché non ci sono più armi nel craft Lo so Oh che cazzo Grazie Eh grazie John Qual punto? Nemico individuato Mi serve un calcio standard Manca me due Voglio un calcio standard Anche a me due Mi serve un calcio standard Non mi sfuggirete Godo ribo non cagato Godo gli ha scritto ciao ribo emoji della luna tipo Minchia ribo Beh pesante questa Cioè è meglio non ricevere nessuna emoji Che ricevere quello schifo là sinceramente Ma dove cazzo le vediamo? Che cazzo sono scusa? Che emoji sono? Non vedo A me sembrano delle lune Che cazzo sono quelle Sono i cuori con le mani Ma Ah ma perché Quelli che ti manda sempre Ah Ah ok ok E' quelli che mi Come fai a saperlo? Beh lo sappiamo tutti Come fai a saperlo? Da fuck Come lo sai scusa? L'avrei condiviso 20 volte Vabbè Avrei flexato 20 volte Vabbè Stai attento a quello che condividi Vabbè Ah vabbè no Ok erano i cuoricini Eh ma perché mi compaiono Censurati tipo Perché sono da pc L'ho già aperto da pc Non mi carica le emot Cusciamo? Sembravano delle lune Ma che c'è? Ma? Eccolo muoviti Ricarico gli scuri No Eh Eccolo Notte Clarence Buona fortuna per la verifica Ricorda di mettere Dei cuoricini Alla fine di ogni frase Bastardo Mi stanno triggerando Grazie Pusciano e pusciano Fai subito l'L1 Ho preso quello one shot Ho preso anche lui Beh lascia one shot Anche lui allora 30 solo Vabbè Io non lo No 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 Ma non gli sparavo apposta GG Stavo aspettando apposta Non gli stavo sparando apposta Sai com'è È un problema È un problema Cioè Luffy Luffy C'è una vintage Che mira Vabbè avrà finito i gol Cioè Io non gli sparavo apposta Ho sparato quando ero one shot Perché ormai era troppo tardi Però non gli stavo sparando Per aspettare che me lo lasciassi one shot Ah Godo allora Gli ti beggavo davanti Dio caro Sono sceso a ti beggare Ciao parzi Se no l'avrei noccato Però volevo farlo da one Toriello Toriello Gioschi Gioschi Cazzo è il fratello di Guidoschi Zioca Gioschi 99 Beh ha un fratello Guido Però non penso che sia lui Cioè ha un fratello Che gioca anche ad Apex Qui c'è uno stabilizzatore canna Livello 1 Riduce il rinculo Attenzione L'anello si sta muovendo Baluno Ma uno viene pushando qua No ma che fanno Vabbè io vado avanti No Ah ok Con solo due Eh Pericolo Era decisamente E' sì Quindi che faccio Dove che sono un ping Eh anche qua davanti Niente sono da tutti i lati Spero di farci No ma c'è un team Camperato con Rampart Qui davanti Dovresti Prenditi più e becca Da me No dobbiamo fare un altro giro Attenzione Non la potete Fai da subito E' che c'è un altro team Con Rampart Più che altro E' quello il problema Tocca fare giro Il problema è l'altro team di merda Sì sono tornati gli split Sì un medikit e basta Però vabbè mi basta Sono tornati gli split Ma lo split finisce settimana prossima Non questo martedì Ma martedì prossimo Beh anche perché è già finita Ma sì Potremmo Eh a mulino però non ci arriviamo Ho un balunio Aspetta metto il balun Beh crafto io Ah ok Dove crafti qua Eh ma a mulino scusa Ah ma perché io qua ho già craftato E non mi Aspetta Ok Eh non sapevo manco ci fosse il crafting qua Però verso mulino c'è già Cazzo no Non me lo fa mettere qua Va bene pandiz Non ti darò mai più il mod Mi sto curando Però c'era gente alle case di mulino Eh vabbè Un minuto alla chiusura dell'anello Ma non l'ho neanche fatto con te il master pandiz Sei stupido L'ho fatto in 2Q brutto scemo Quando mi chiederanno con chi ho fatto il master questa stagione Dirò in 2Q con Seba No tu non l'hai fatto con me Siamo vicini all'anello Restano 30 secondi È un rischio molto pesante Che roba O la va O la spacca Con te ho fatto giusto un paio di partite Sto posizionando uno smutoternico Sto capo usciare subito qua davanti Ma volevo andare full assist Qua hanno finito Li ho colpiti poco Voglio andare full assist Andiamo Hanno pure le barriere di rampart In quel cazzo Ecco a posto Ricagiamo Ricarico gli scuri Non mi serve una siringa Così a sinistra? Boh sì Devo trovare una siringa Ciao John In palestra Minchia beato te Cioè beato te che ce l'hai aperta quest'ora A me chiude alle 22 7.21 Mi sto curando Vabbè dobbiamo fare più 40 Deve farli lei Eh sì Quanto sei? Meno 20 Meno? 22 Ma qua Dove sei John? Non mi ricordo C'è una nullità laggiù 8 di sera Quindi 5 ore di fuso Sarebbe camperare Eh bugga Una china Li rideranno Questa casa è buona Comunque Che top le serve Per fare più 40? Oh Ah beh è vero Scopriamo No secondo me Top 5 no Quanto sei? Ora è almeno 12 No il cazzo Top 5 Eh appunto no Servirebbe prendere Un altro paio di punti Aspetta No Va bene ma tanto la vinciamo easy questa Non rischiamo Però La vinciamo facile Da sopra Da sopra la creatura Minchia 80 knock Siamo ancora top 6 Chiudi qua Mamma mia Ma che casetta Niente paura Non moriremo arrostiti Siamo già nel prossimo Ma non lo so avete finito Tutte e due Buono Quanto sei Marika? 37 E devi fare più 40? In realtà più 39 Ah Vabbè un altro top La vedo C'è c'è Non mi dispiace Eh pandiz Per ora si Diamante Totto Ma non è vero Vabbè dai Ebbè serve prendere un'altra top O un punto Quindi non è detto Ma si guarda come vado a prendere Siki Sono caduto Ops 14 Laserata No Poche cura Ma quando pandiz Cioè si è vero Guarda come si bussano Però quando l'ho promesso Pensavo che Non ci sarebbe stato Tutto questo problema Con le ranked Col principale Ok Forse si bussano Ora sopra Ah no qua dietro Ma è Marika è morto Sì Ma quando è subito Ma scusciamo questi donati 95 dai push Sto restando Marika io Io non lascio Marika indietro Direi Adesso la double zaino Qualcosa No 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 Si è messo il muro Lì Il team dietro Invece è dietro le barriere Di nuke No il team dietro Non si muove Non mi piace per niente No io non posso più piccare Ho finito gli scudi Minchia Non mi hai dato sempre il motor Se vuoi Eh ma muoio Prima che lo fai Senza te Zero cure Contagline Vieni Vado sopra la casa Che è libero Ma sono tutti sotto Sì Sopra Sì lo visti 80 lori Non c'è la rottura di coglioni Qua Uh preso il nuke a destra Pusho questo Buono Non vedo un cazzo Solo smock In caso feita Pusha Un HP La ori Cazzo L'hai confermato? No 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 Era one shot anche la La venga però L'avevo fatto 90 flash a venga penso Cazzo A bengalore 103 di 86 Viola 199 viola 113 di 86 199 viola Let's go Brutta partita Grazie Beh brutta partita Ma hai fatto Hai fatto Il diamante Che bello E ora si può andare a dormire Soddisfatti Aspetta Non uscire subito Oh Che ha più 350 Brava Marica Diamante 4 Cosa pandizza? Mmm Ma va Facciamo il master Pazzo Va bene Grazie per il mio bellissimo diamante E' un altro Beh grazie Te lo sei meritato Oggi in una partita Hai fatto anche più danni E più kill di me Beh Buonanotte Buonanotte Marica Buonanotte Alla prossima Raidiamo R-Catch Ormai il diamond Lo fanno tutti Sì sì Nella community Nella community No Visto che Davidotti Non l'ha fatto Edo non l'ha fatto E' apposta Marica Si è piazzata Nella top 10 Della community Alla prossima Che basta Non apro più ranked Allora Marica Dovresti mettere delle virgole Per spiegare il senso della frase Penso di aver compreso Dovrebbe essere alla prossima Che Virgola Basta Virgola Non apro più ranked E vabbè Però alla prossima Si può fare anche altro Insieme Non è che dobbiamo per forza Arrancare su Apex Cioè possiamo fare anche altro Alla prossima Possiamo fare le mixtape Possiamo giocare le pub Possiamo fare la nuova modalità evento Ci sono tante cose che possiamo fare Alla prossima